Midrand G7 Pro apparato dual band permette quindi di trasmettere in PMR 446 e in LPD copertura in centro città da 1 a 2 km in campo aperto da 4 a 6 km e in piena montagna di 12 e più chilometri. Andiamo a vedere le caratteristiche impresse sul retro abbiamo un doppio PTT permette quindi di trasmettere ad alta e bassa potenza con un doppio tasto posto sulla parte laterale della radio. Abbiamo la possibilità di alimentare la radio utilizzando un pacco batterie litio esterno, un ampio display, un dual watch per monitorare insieme due canali contemporaneamente 38 toni ctcss e 104 dcs sia in trasmissione che in ricezione. Ma andiamo a vedere il contenuto della scatola. All'interno della scatola troviamo quindi le istruzioni, le batterie, il caricabatterie e la radio. Andiamo a vedere il caricabatterie. Spinotto mini jack da inserire direttamente sulla parte laterale della radio dove c'è l'ingresso cuffia. Batterie da inserire direttamente dentro la radio. Andiamo quindi a vedere la radio. Sulla parte laterale troviamo il doppio pulsante PTT che permette di trasmettere in alta e bassa potenza, sulla parte frontale l'ampio display e sull'altra parte laterale l'ingresso cuffia e ricarica. Sulla parte frontale troviamo l'ampio display, il tasto call che permette di effettuare la chiamata oppure di bloccare la radio tenendolo premuto, il tasto menu con le frecce per navigare appunto all'interno del menu e il tasto mount scan. Sulla parte superiore la manopola per il volume e l'accensione della radio. Andiamo ad inserire le batterie. Inserite le batterie possiamo procedere ad accendere la radio. Andiamo quindi a vedere le dimensioni di questa radio. Circa 20 cm comprensivi di antenna per una larghezza di 6 cm ed uno spessore di 4 cm. In descrizione tutte le caratteristiche.